E bentornati tutti quanti nella locanda oggi con un nuovo video e che video signori infatti oggi andremo a parlare della nuova patch uscita ieri sera alle 19 finalmente sono usciti tutti i dettagli per i nerf li avevamo visti in una scheda proposta da blizzard su twitter e di instagram e invece oggi andremo a vedere e leggere proprio le note della patch note della patch come vi ho detto già valida attualmente e che vede tantissimi tantissimi nerf forse la patch più grossa per quanto riguarda proprio le modifiche delle carte infatti non solo si va a toccare la standard ma si va a toccare sia la wide che il formato twist oltre ovviamente a batte e gran duelli ma quello non siamo specializzati quindi lo lasciamo ad altri per quanto riguarda le note della patch andiamo a leggere appunto il pensiero del team di sviluppo perché secondo me è la cosa più importante cosa ci sta dietro al ragionamento quindi commento dei sviluppatori questa patch porta con sé molti cambiamenti alle carte abbiamo anche molto a dire su perché stiamo apportando queste modifiche per i cambiamenti incentrati sulla modalità standard in questa patch intendiamo bilanciare sia i poteri che le esperienze di gioco quando abbiamo potenziato il guerriero nell'ultima patch di bilanciamento lo abbiamo fatto sapendo che avrebbe ottenuto strumenti più potenti nel mini set ma per assicurarci che il mazzo avesse successo abbiamo esagerato con il potenziamento sapendo che avremmo avuto l'opzione di fare piccole correzioni per ridurlo se necessario ora che il mini set è arrivato sembra che il guerriero sia una delle nostre classi più eccezionali perciò stiamo apportando delle modifiche anche il cacciatore ha uno dei mazzi più forti del formato e ci aspettiamo che diventi ancora più forte dopo le altre modifiche che stiamo apportando con questa patch perciò stiamo anche lavorando per abbassare un po' il suo livello di potere quindi hanno detto praticamente il top tier attualmente sono è anzi i warrior warrior che ha ricevuto delle buonissime carte del mini set infatti quando avevamo analizzato e vi avevo portato a car review del mini set effettivamente le carte di warrior erano tra le carte migliori e infatti attualmente è davvero una lista molto forte con questa patch allora lo si vuole un po' nerfare andando a nerfare warrior ovviamente hunter potrebbe venire un po' fuori e quindi probabilmente andranno a nerfare anche qualche carta di hunter ma non è tutto qui infatti andiamo avanti a leggere movimento della superbia una modifica per rimuovere l'esperienza di gioco negativa di giocato in maniera dubbia un sargaras troppo presto nella partita spia coda armata è una modifica per un mazzo potente un'esperienza di gioco negativa rimuovendo un po' del potenziale esplosivo inarrestabile del ladro robot dopo le andremo a vedere in un specifico ma quindi è stato ritoccato insieme a warrior e hunter anche il lock e anche il mech rogue anche sirena, sferza rabbia e banditore di meccanica hanno problemi di potere e funzionalità se combinati ma per lo più sono concentrati sull'estremità più alta della scala per molto tempo banditore è stata una carta che spuntava solo in modalità standard quando era problematico in questo caso il mini set ha offerto una massa critica di effetti che consentivano a un mazzo che usava banditore di pescare sistematicamente l'intero mazzo ed eliminare l'avversario in un turno addirittura al turno 5 non è l'asticella che vogliamo per la modalità standard a prescindere dal tasso di vittoria generale il mazzo in questo caso sembrava che il mazzo tendesse verso l'essere molto potente nella fase di rifinitura ma avevamo bisogno di cambiare qualcosa comunque con questa patch abbiamo sia rimosso banditore la modalità standard che aumentato il costo di 1 dal momento che è una carta problematica anche in modalità selvaggia allora qui c'è un discorso più ampio da fare perché se i nerf visti prima quindi a rogue, a lock, a guerriero e a hunter erano incentrati sulle classi perché erano troppo forti qui si è voluto andare a togliere delle carte problematiche perché erano poco interattive no, sirena, voi la andate a giocare andate a fare un turno dove andate a giocare 20 carte tra appunto spell e nage invece banditore come dicevano una volta che lo avevate in campo iniziavate a ciclare tutto quanto il deck e facevate dei turni incredibilmente forti proprio per questo motivo hanno deciso di andare a nerfare la sirena e quindi rallentare tutta quanta la combo e andare a bandire addirittura e quindi togliere dal corsetto, dal set principale, il banditore in questo modo appunto il druido non avrà più possibilità di andare a ciclare completamente il mazzo e fare delle grandi porcate dei cambiamenti che sono interessanti di sicuro in quanto comunque il druido ne subirà tantissimo ora bisogna vedere che strada riuscirà ad andare a prendere se tornerà Trent oppure se magari troverà qualcosa di nuovo per andare a sostituire il banditore per i cambiamenti incentrati su formato selvaggio caverna del tempo è la nostra prima espansione direttamente modalità selvaggia non stiamo pianificando di inserire cambiamenti su questa scala alla modalità selvaggia in modo regolare ma alcune carte delle caverne hanno finito per avere bisogno di alcune modifiche e questo ci ha presentato un'opportunità speciale per eseguire modifiche più generali quindi praticamente anche Wild necessitava di un bilanciamento hanno deciso di accorpare tutto quanto in questa patch ovviamente c'è stata una nuova espansione in Wild che era appunto caverne del tempo alcune carte erano effettivamente molto forti e meritano dei nerf e quindi insomma una diminuzione del power level generale della Wild che rimane ancora super elevato infatti non si vuole andare ad abbassare power level verranno ritoccate solamente poche carte ma magari delle carte che comunque interessano appunto caverne del tempo in modo particolare la modalità selvaggia è per sua natura piena di interazioni potenti ma vogliamo comunque che sia una modalità che ti faccia sentire di giocare a Airstone ecco perché queste modifiche si concentrano sulle più grandi esperienze di gioco in particolare la modalità sui mazzi che ora sono frustranti e che se non intervenissero probabilmente resterebbero frustranti per molto tempo ci sono alcuni mazzi selvaggi forti che non abbiamo toccato con queste modifiche perché sebbene siano potenti in generale si adattano allo stampo di Airstone abbiamo scoperto che i giocatori della modalità selvaggia spesso hanno obiettivi diversi tra loro quindi ci aspettiamo che alcuni vorranno colpire di più o fare qualcos'altro ma speriamo che nel complesso queste modifiche rendano la modalità più divertente per tutti quindi oltre alle modifiche per Caverna del Tempo si è deciso anche di modificare leggermente la Wild in alcuni mazzi troppo forti e che non rispecchiavano le meccaniche tradizionali di Airstone quindi magari soprattutto io penso il Mana Cheating interessante come cosa ovviamente le modifiche non sono non riguardano tutta quanta la Wild perché ovviamente essendoci infinite carte il power level è altissimo è inutile andare a nerfare tantissime cose perché alla fine si potrebbe sbilanciare ancora di più di quello che è ora si è andato a ritoccare qualcosina per cercare di ribilanciare un pochino tutto quanto e punire magari i mazzi più frustranti infine per i cambiamenti incentrati sulla modalità imprevedibile abbiamo visto che il formato Meraviglia è più veloce di come lo volevamo e lascia poco spazio per le carte evocative dell'Era delle Meraviglie i cambiamenti in questa patch puntano a indebolire le carte più eccezionali del formato e allo stesso tempo potenziare strategie che efficaci nella fase finale di una partita e alcuni strumenti di controllo speriamo che questi cambiamenti in aggiunta al modificatore imprevedibile del prossimo mese possano dare la possibilità di strategie più lente di esistere in questo formato allora sapete che tra pochissimo ricambierà la modalità imprevedibile questa volta rimangono gli stessi set tuttavia cambierà appunto il numero dei carte che tu potrai inserire nel mazzo e cambierà anche di conseguenza i tuoi HP visto che già questo sarà uno scossone per l'intera modalità hanno deciso comunque di intervenire con alcune modifiche per ribilanciare alcune classi soprattutto ribilanciare molte carte che hanno rilasciato proprio con caverne del tempo che effettivamente erano troppo forti per il vecchio power level di Erson di quei tempi quindi direi ci buttiamo direttamente con i nerf veri e propri e andiamo subito a vedere il movimento della superbia il movimento della superbia che è stata nerfata è un nerf sicuramente molto duro prima era pesca il tuo servitore con il costo più elevato ne riduce il costo di 3 ora pesca un servitore e ne riduce il costo di 6 allora di questa carta ho sentito parlare tantissimo innanzitutto vi volevo spiegare perché non hanno ridotto il costo di 6 perché le maledizioni funzionano tutte quante che fanno 6 cose quindi 6 danni a tutti i servitori fa 6 danni evoca un 6-6 quindi il 6 doveva rimanere per forza e doveva andare a scontare per forza di 6 quindi di qua non si passava per forza era un discanto di 6 a questo punto la carta secondo me perde tantissimo power level secondo me voi andrete a farla davvero raramente quando voi giocate a 5 la spell non prenderete mai questa carta per andare alla ricerca appunto di Sergaras perché ovviamente diventa un terno all'otto e per come gioca attualmente il lock serve una percentuale troppo bassa per essere premiati a meno che quindi non cambierà la lista di lock e quindi si giocheranno solo i servitori più costosi per andare ad avere una miglioria su questa carta allora sarà un conto secondo me invece il nerf si sentirà di più in quanto questa scelta non si avrà mai e comunque se si dovesse pescare difficilmente verrà giocata perché è la più scarsa tra tutte quante le altre 7 scelte a questo punto direi che il nerf è molto impattante lock ne soffrirà parecchio perché giocare Sergaras nei primissimi turni era la cosa che più sbagliato è questo deck e che faceva di conseguenza andare a vincere di più era una giocata molto frustrante da parte dell'avversario e capisco bene il nerf e io sono assolutamente d'accordo con questo nerf spiaco d'armata prima 4 attacco 3 salute ora 3 attacco 2 salute quindi se voluto incentrare un nerf proprio sul drop a 3 del rogue non si è deciso per un aumento di mana che ci poteva tranquillamente stare quindi farlo diventare un 4 mana 4 3 si è deciso di tenerlo allo stesso costo ma a diminuire di un 1 1 le statistiche secondo me ci sta anche qui il nerf ovviamente il suo effetto più forte è quello di dare la coin quindi voi comunque state pagando un 3 2 con magnetismo 2 mana però non è i 2 mana di prima e ottenere un 4 3 che insomma un 2 mana 4 3 con carica perché alla fine aveva carica questo servitore era tutt'altra cosa secondo me è un nerf che si sente il giusto la carta rimane probabilmente giocabile la carta si giocherà comunque in mecha rogue però la patenza è un pochino diminuita e soprattutto magari ora si riuscirà a rimuovere più facilmente questo servitore in particolare nel mirror per quanto invece riguarda Serena Serena è aumentato di 1 il costo in mano è aumentata anche la salute però sappiamo che qui della salute non ce ne facciamo niente l'importante è che Serena sopravviva no non che sopravviva ma in verità è che è importante che faccia il suo turno sbagliato quando viene giocata ovviamente ritardare la combo vuol dire ritardare tutto quanto il mazzo e probabilmente renderlo un po' troppo debole e quindi difficilmente vedrà tanto gioco arco stellare come avevamo detto anche il hunter è stato nerfato in questa patch un nerf che secondo me non cambia tantissimo arco stellare effettivamente per essere un'arma che spesso e volentieri si giocava a 3 mana 3-4 mana era un po' troppo forte come 6-2 5-2 è più gestibile sono comunque tantissimi danni ma nerf che io ritengo giusto un nerf invece che secondo me non cambierà tantissimo in quello di sicuro del martello dell'artigiano che passa da fornire a 4 armature a fornire 3 armature un nerf che va bene modifica di 1 il danno che subite una volta che l'avversario avrà giocato Odino e gli date un po' meno cure secondo me appunto non cambierà tanto forse avrei nerfato un pochino di più però insomma ci può stare tranquillamente come arma un piccolo nerf piccolo nerf che di sicuro invece non è quello di sanitizzazione infatti qua si sta parlando già di un nerf più importante aumentare di 1 una spell una mass removal è davvero tanto anche perché un conto era l'avversario che vi metteva una board molto forte a turno 3 magari voi avevate qualche armor residua avevate già forgiato la carta in questo punto riuscivate a rimuovere tutto quanto a turno 4 ecco a farlo turno 5 1 probabilmente non avrete più armor e 2 soprattutto potrebbe essere troppo tardi inoltre va potremmo dire a combaciare con la brawl che è un'altra rimozione insomma avere due rimozioni nello stesso costo è sempre peggio di averne due a costi diversi quindi di sicuro un nerf importante la carta rimane molto forte bisogna vedere se effettivamente troverà ancora gioco nel mazza 30 carte oppure no per quanto riguarda invece la sferzatrice contaminata passa da 2 mana 3 3 a che in verità era 2 mana 3 2 mi pare non so perché si è scritto 3 3 vabbè comunque ha 3 mana 3 3 cos'è che cambia effettivamente cambia che il posto di ricaricarti di darti 2 cristalli di mana ora te ne dà solamente uno è un nerf importante sicuramente questa carta non la si giocava per le statistiche quindi il più uno salute non cambia nulla la si giocava appunto per il mana che ti dava ecco avere un mana in più non so quanto possa fare la differenza però in alcuni deck secondo me potrebbe ancora trovare tranquillamente gioco banditorio meccanica come dicevamo è stato tolto dalla standard tuttavia in wild e in twist è ancora giocabile però passa a 7 mana a 7 mana che non sono tantissimi tuttavia non sono nemmeno pochi comunque il nerf da 6 a 7 probabilmente si sentirà un pochino nel tasso di vittoria in wild rimane una carta molto forte però insomma dai un pochino è stato ridotto il power level anche perché soprattutto la sua interazione più forte era quella con Tony e Tony come andremo a vedere successivamente è stato bandito proprio dalla wild per quanto riguarda appunto parliamo allora del set nuovo caverna del tempo dove camera del viscidus è stata nerfata e anche di tanto infatti passa ad essere una 2 mana con 3 integrità a una 3 mana con 2 di integrità probabilmente la carta rimane ancora forte quindi probabilmente giocabile però di sicuro ha un nerf molto pesante e che si sente tantissimo viene nerfato anche patto scuro che passa da 3 a 4 mana va bene un nerf che ci può stare secondo me nerf ha il cavaliere del male che passa da un più 2 più 2 a un più 2 più 1 anche qui nerf importante in quanto la salute è fondamentale per questo servitore visto che vi deve rimanere in campo e andare a farvi vincere insomma un discard lock davvero che è stato bombardato bombardato come il ritorno esplosivo che passa da 3 a 4 mana anche qui una carta sicuramente molto forte nel meta warrior era uno dei migliori mazzi insieme a lock e a rogue se vanno a nerfare il lock ovviamente devono nerfare anche il guerriero guerriero che viene nerfato anche nella carta di torre d'avorio che passa da 4-4 a 4-3 qui non cambia tantissimo però il re il principe del formato twist era di sicuro il rogue rogue che vede nei nerf importanti infatti telegramma di giada passa da 3 a 4 il gong dello scarabeo passa da 0-2 a 0-1 il token quindi potrete evocare solamente una volta i vari scarabei non più 2 come in precedenza assassino di k'tun passa anche qui da 6 a 7 mana quindi aumento di cost prova di jurungar che vi permetteva di mettere i due servitori leggendari del war del hunter scusate in campo e quindi andare a tradare tutta quanta board nemica viene nerfata e portata a 6 cosa che ci sta e poi andiamo a vedere invece quello che riguarda anche la wild infatti spirito di aranal si giocava nel quest shaman uno spirito che vi permetteva di ciclare tutto quanto il deck davvero molto forte passa addirittura a 5 mana quindi forse davvero troppo lenta per quanto riguarda anche frug viene nerfato anche qui di tantissimo passa da 2 a 4 mana in quanto con toxfin permetteva una combo davvero molto forte andando a tradare tutto quanto semplicemente a 3 mana ora questa combo passa a 5 che è più o meno una tradizionale mass removal che hanno altre classi anche lo sfregiapin cambia passa da 4 mana a 5 mana proprio per andare a togliere la possibilità di fare ulteriori combo però non sono stati nerfati solo lo shaman e le carti delle classi ma sono stati nerfati alcuni dei mazzi più iconici della wild ad esempio il resurrect priest con essenza d'ombra che passa da 6 a 7 mana di sicuro un nerf che si farà sentire ma è stato anche nerfato secret mage in quanto l'1-2 l'1 mana 2-1 scusate non fa più costare il tuo prossimo segreto 0 ma bensì 1 quindi lo si giocherà a turno 2 bisogna capire se effettivamente troverà ancora spazio oppure no per quanto riguarda il robo evocatore qui si è stato addirittura convinti nell'andarlo a bandire per quanto riguarda la modalità selvaggia in twist invece no probabilmente poi quando ruoterà da twist in wild si deciderà con un nerf è più importante attualmente credo che abbiano deciso di non andarlo a nerfare proprio perché lo si sta giocando in twist dove non causa troppi problemi lo stesso vale per Tony al posto di andarlo a modificare si è deciso di andarlo a bandire solo in wild poi quando andrà ruoterà appunto da standard probabilmente si lo si andrà a nerfare in modo che possa tornare a essere giocabile per quanto invece riguarda non ci sono stati solamente nei nerf perché ci sono stati anche dei buff e dei buff signori davvero davvero molto interessanti e i primi riguardano proprio il dk con le maledizioni il dk con le maledizioni che vi ho portato anche qualche giorno fa un mazzo che non fa male e che di sicuro con questo buff importante otterrà ancora più successi infatti si è deciso di andare a togliere le rune gelo dal pacchetto maledizioni quindi sia a fondo con la nave sia traditore delle tombe attualmente si può giocare semplicemente giocando un mazzo full a noli e questo appunto permette delle combo di sicuro più forti gli si permette anche di magari metterlo in combo con due rune del sangue oppure con due tre rune verdi insomma rainbow lo si può fare un pochino come si vuole dando più giocabilità alle maledizioni di sicuro le si rende molto più forti anche per quanto riguarda il regino del gelo sindargosa si è deciso di togliere la runa sangue ed è rimasta semplicemente quella del gelo rendendo anche qui una carta che si addice di più alle varie tipologie di mazzi e che si può combinare in diversi modi la crime di tira invece è stata leggermente ritoccato il testo solamente per favorire la carta quando viene discoverata da altre classi quali il rogue o il prete infatti ora risuscita tre servitori della tua classe diversi prima era della classe del paladino anche tira è stato buffato probabilmente questo buff è più per twist che per standard comunque passa da un ottomana 6-6 con provocazione scudo di vino e ranto di morte a un ottomana 8-8 quindi di sicuro un buff molto importante per statistica altro buff di sicuro di rilievo è il sier giaraxus che anche in questo caso passa da 9 a ottomana e sapete buffare il sier a 8 secondo me diventa una giocata molto interessante perché si può decidere di fare l'hero power a turno 10 quindi comunque mettere un 6-6 in campo o comunque lo si può giocare un turno prima che a volte è letteralmente quello che serve anche a caverna del tempo è stato ritoccato qualcosina quindi andiamo a vedere fortezza scenariana che passa da 2 mana a 1 mana di sicuro questa carta ottiene un ottimo buff e potrebbe vedere tranquillamente il gioco soprattutto la modalità twist anche in ottica di tutte le altre classi più forti sono state nerfate quindi druido potrebbe rivedere il gioco pozione del drago fuoco viene ritoccata e passa da 6 a 5 mana anche qui buff importante soprattutto per il prete di twist mentre cavaliere del drago bronzo ottiene taunt che è un buff anche qua molto importante in quanto andare a rimuovere un servitore che probabilmente sarà un 4 mana 5-5 con taunt più un 4 mana 5-5 con taunt insomma una bella muraglia la si va a mettere scarica elementale invece va a fare 4-5 danni a tutti i servitori e passa da sovraccarico 5 a sovraccarico 2 quindi diventa presente una tempesta di fulmini molto più forte con un sovraccarico di poco più di 1 quindi insomma un buff anche qui decisamente molto forte l'ultimo buff che andiamo a vedere oggi è alakir i 20 del tempo che passa da 5 armatura a 8 una carta comunque molto forte qui c'è anche l'aggiornamento a battaglia e a duelli e poi qualche risoluzione di problemi di gioco per lo più di duelli e venti che mi avevate chiesto appunto come riuscivate a fare prova an anomalie ecco ora è stata fixata e appunto si può completare tranquillamente per quanto riguarda la patch è tutto direi di sicuro dei nerf e dei buff molto importanti molto decisivi io non vedo l'ora di andarveli a mostrare meglio magari in gioco fatemi sapere voi cosa ne pensate della patch se vi sono piaciuti oppure no e niente noi ci vediamo stasera con una nuova guida infatti ieri avevo portato un po' di demon hunter ci ho fatto delle bellissime partite quindi mi piacerebbe portarvelo comunque stasera così ve lo potete godere visto che è un mazzo molto buono non è stato toccato dai nerf e potrebbe essere un'ottima scelta da poter giocare appunto con la nuova patch grazie a tutti